Covid-19 rallentano i contagi ma crescono i recovery Ordinanza anti-assembramento, vietati, pasti e bevande all'aperto dopo le 16 Maltempo sulla costa, mareggiate e piante di velpe Ciocomarche inizia una diciannovesima edizione digitale Grazie a tutti Il nostro telegiornale della sera con tutte le principali notizie della provincia di Pesaro e Urbino Telegiornale di venerdì 20 novembre che apriamo con il punto della situazione sul coronavirus nelle Marche Contagi e tamponi infatti denotano una lieve flessione diverso l'andamento dei ricoveri Vediamo il punto di questo andamento dei contagi proprio nel nostro primo servizio Sono 512 i nuovi casi positivi al contagio da coronavirus Rilevati dal servizio sanità della regione Marche nelle ultime 24 ore 77 di questi sono sintomatici Un dato emerso dai 1725 tamponi effettuati oggi nel percorso nuove diagnosi Per un totale di 3.367 tamponi processati comprendendo il percorso guariti Di questi 113 sono quelli riscontrati nella provincia di Pesaro e Urbino Il dato complessivo denota un lieve calo rispetto agli ultimi giorni Tant'è che scende sotto il 30% la percentuale di incidenza di tamponi positivi Sulla quantità totale di test processati Marche che ora provano a rallentare ulteriormente con l'ordinanza anti-assembramento della giunta regionale Che entra in vigore da domani Le province che oggi risultano più colpite sono Macerata con 158 casi e Ancona con 145 Pesaro-Urbino ne ha contati 113 dopo i 168 di ieri Numeri a tripla cifra che in questa seconda ondata non si stavano registrando nel Pesarese Numeri che però vanno letti oltre le scarne cifre Che raccontano piuttosto di un ritardo nel processare i tamponi Con test accumulatisi nel laboratorio pesarese di Marche Nord Che ora sta esaminando anche i dati delle strutture di Fermo e Civitanova Fornendo supporto sui tamponi Diminuiscono i contagi ma si alzano i ricoveri Sono 623 i pazienti registrati oggi nelle strutture ospedaliere marchigiane Cioè una crescita di 19 unità rispetto a ieri Soprattutto salgono a 81 i ricoveri in terapia intensiva Tre in più rispetto al giorno precedente Intanto la sanità continua a mescolarsi con la politica Con scelte non sempre gradite Come a Cagli dove l'ospedale diventa presidio covid Destinato ad ospitare 30 malati contagiati da coronavirus In una decisione che ha fatto storcere il naso al sindaco Alessandri Per il mancato coinvolgimento del comune Nella decisione arrivata dalla giunta regionale Discorso simile a Macerata Feltri Ha convertito in centro covid pochi giorni prima Dall'entroterra alla costa Altro scontro politico-sanitario Quello sull'ospedale unico stoppato dai pareri del consiglio regionale Ma sul quale il centro-sinistra non molla e intende dare battaglia A cominciare dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci Che ha organizzato per domani alle 15 Un presidio all'ospedale di Muraglia Ed entra in vigore da domani sabato 21 novembre La nuova ordinanza regionale anti-assembramento Che è stata firmata ieri sera dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli Saranno poche le abitudini che cambieranno rispetto a quanto già imposto dalla zona arancione Ma vediamo quali sono Entra in vigore dalla mezzanotte di sabato 21 novembre La nuova ordinanza regionale anti-assembramento Firmata ieri sera dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli Un'ordinanza preannunciata da giorni E cucinata a fuoco lento di un confronto fra l'esecutivo regionale E sindacati e associazioni di categoria Era stata annunciata come ordinanza soft E infatti sono poche le abitudini che cambieranno Rispetto a quanto già imposto dalla zona arancione Fra le poche ce n'è però una ancora mai sperimentata Alla già vigente chiusura di bar e ristoranti Limitati ai soli servizi di asporto e consegne a domicilio Imposti dalla zona arancione Si aggiunge il fatto che non si potrà più consumare pasti o bevande all'aperto dopo le 16 A Pesaro ad esempio chi si vuole fare una passeggiata pomeridiana in centro storico Sapeva già di doverla fare con un percorso obbligato di sensi unici Imposti dalle direttive comunali Ora sa pure che se vuole prendersi un gelato, un panino o una bevanda Può farlo ma dovrà andare a consumarselo a casa Insomma tutti accorgimenti per limitare al massimo le situazioni di contatto fra persone Che all'aperto dovranno sempre utilizzare la mascherina eccezione fatta per i bambini sotto i 6 anni Mascherina che resta invece non obbligatoria per chi svolge attività sportiva all'aperto Norme più restrittive anche negli esercizi commerciali Dove si potrà permanere solo il tempo necessario agli acquisti Negozi in cui andrà obbligatoriamente predisposto un contingentamento degli ingressi A scuola invece viene dato lo stop alle lezioni di educazione fisica Nel caso non si riesca a mantenere il distanziamento sociale di due metri Sospese le lezioni di canto e di strumenti a fiato Controlli stringenti sul divieto di assembramento Incisive raccomandazioni a non organizzare cene e feste in abitazioni private Non c'è divieto ma c'è un forte appello al buonsenso Novità anche per l'attività di ispezione degli impianti termici Che viene sospesa fino al 31 gennaio 2021 Eccezione fatta per comprovate situazioni di pericolo E' stato un venerdì di maltempo sulla costa Fra pioggia, vento e mareggiate Che hanno provocato anche curiosi fenomeni di schiuma proveniente dal mare Che nella mattinata ha imbiancato zona mare e il porto di Pesaro Diversi gli interventi dei vigili del fuoco Soprattutto per rimuovere piante e rami di velti In particolare a Fano dove i rami caduti hanno creato disagi al traffico stradale E anche danni alle auto in sosta E restiamo a Fano dove il comune si sta mobilitando Per sottoscrivere una importante convenzione Con il ministero per i beni e le attività culturali e il turismo Lo scopo è proprio quello di promuovere il patrimonio culturale Della città della fortuna a cominciare dal carnevale e dalla marineria Il servizio è di Simone Celli Turismo e promozione del territorio Fano mette il turbo La città della fortuna avrà anche perso la partita Per diventare la capitale italiana della cultura del 2022 Ma l'esclusione dalla top 10 delle città papabili Non pone di certo fine alle ambizioni dell'amministrazione fanese Perché nei giorni scorsi la giunta Ha gettato le basi per un'importante convenzione Che unisce il comune e niente meno che il ministero per i beni culturali Il cosiddetto MIBACT Tra gli obiettivi principali Vi è anche quello di far diventare il carnevale di Fano Patrimonio immateriale dell'UNESCO Fano siglerà un protocollo molto importante con il ministero Con il dirigente del servizio tutela per il patrimonio immateriale E in realtà è anche direttore dell'istituto centrale per il patrimonio immateriale Ente con cui verrà siglato questo protocollo Il protocollo vuole innanzitutto Fare in modo che questo percorso di valorizzazione del carnevale Come patrimonio immateriale dell'UNESCO Possa avere una sostanza Si possa formare questa rete di carnevali italiani Con un ente superiore che possa anche supportarci Da questo punto di vista E quindi si possa arrivare all'obiettivo Di far sì che il carnevale diventi patrimonio immateriale UNESCO Non solo maschere e coriandoli però Perché sono tante le carte che Fano può giocarsi Tra queste ve ne è una in particolare Che l'amministrazione intende mettere sul tavolo quanto prima Si tratta di un'altra componente essenziale della tradizione fanese La marineria Nel protocollo è prevista la valorizzazione di tutte quelle arti Quei saperi Che ha la città di Fano Come lo è la marineria Come il paesaggio Come lo sono le arti e i mestieri Insomma tutte quelle attività Che possono emergere dai valori antropologici della città Quindi avremo al nostro fianco il ministero Avremo al nostro fianco dei professori dell'università La Sapienza di Roma E con loro verrà realizzato un team Per valorizzare tutto questo In funzione di una crescita turistica Quindi dei progetti che Insomma sempre più tendono a far crescere la città Tendono ad avvalorarne la sua cultura E ovviamente con essa anche il suo indotto turistico Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni Che come sempre vi invitiamo a inviarci Al numero whatsapp dedicato Con foto e video Numero whatsapp che lo vedete in sovraimpressione 370-366-7210 Segnalazione oggi di residenti di Monte Labate Dove buche, asfalto crepato E una segnaletica assente Ormai da diverso tempo Così come ci sono lavori interrotti Queste le principali problematiche Che alcuni residenti di Via Castello Ci hanno segnalato Ve ne parliamo meglio In questo servizio realizzato da Daniele Romagna Le segnalazioni dei telespettatori di Rossini TV Ci hanno portato oggi nel quartiere di Monte Labate Per denunciare le condizioni del manto stradale di Via Castello Diversi residenti ci hanno infatti segnalato L'inizio dei lavori previsti appunto per il manto stradale Che però poi sono stati interrotti e non completati Come sottolineato da alcuni residenti del posto quindi Le asfaltature che interessano il tratto stradale di Via Castello Mancano ormai da diverso tempo I ritardi accumulati dalla mancanza di interventi Hanno ridotto il manto stradale dell'area Una vera e propria trappola per i conducenti dei mezzi Viste le dimensioni di alcune buche E gli eventuali danni e disagi Che si potrebbero creare alle automobili Le richieste e le segnalazioni dei cittadini e dei residenti Con il passare del tempo Hanno fatto sì che il Comune attivasse un primo straccio di lavori Per il rifacimento della via Agli stessi residenti però non risulta chiaro il perché I lavori si siano interrotti poco dopo il loro inizio L'area sistemata infatti risulta essere Soltanto una piccola parte della porzione stradale Che necessita di una completa sistemazione Per di più, a detta dei cittadini Il tratto della via interessato dalla riqualificazione Risulta essere quello che presentava meno problematiche Mentre disagi maggiori sono concentrati in altri punti della strada Buche, asfalto crepato, segnaletica di ogni tipo completamente assente Le chiamate effettuate dai residenti in cerca di una risposta in merito Sono ad oggi andate tutte a vuoto La riqualificazione però si fa ogni settimana più urgente Con l'ingresso nel pieno della stagione invernale E le precipitazioni che andranno ad aumentare nel prossimo periodo Le disfunzioni presenti lungo la via Non andranno che ad aumentare le problematiche segnalate Fino ad oggi dai cittadini E speriamo che con questo servizio i residenti di Montelabate Possano essere aiutati da Rossini TV Come aiutati sono stati quelli dell'Edimar Perché nel quartiere in cui più volte abbiamo segnalato dissesti stradali Ieri ha visto il Comune intervenire con una importante opera di asfaltatura In via delle Rondini Riequilibrando un manto stradale malmesso e pericoloso E domani è la giornata dell'albero Una giornata che per i bambini delle scuole dell'infanzia E delle primarie della città di Pesaro È tradizionalmente celebrata all'insegna del rispetto dell'ambiente Le attuali restrizioni non consentono però di onorare questa giornata Vivendola all'aperto e allora a portare i bambini nella natura È il video che state vedendo Si intitola Gli alberi, amici della salute, amici del pianeta A realizzarlo è stato Andrea Fazzi, esperto scientifico ambientale Un video che viene proiettato in tutte le scuole comunali Al quale i bambini risponderanno inviando disegni, fotografie e progetti creativi su questa tematica Materiale che sarà pubblicato sul sito del Comune Come sollecitato dagli assessori Mila della Dora e Giuliana Ceccarelli Che premieranno le classi partecipanti Cambia la forma ma non cambia la sostanza Anche in zona arancione torna domani la colletta alimentare Che si terrà nei supermercati della provincia di Pesorubino Fino all'8 dicembre donando anche a distanza Come farlo? Ce lo spiega un ospite molto particolare È un robo che te un giorno all'anno vai a fare la spesa E un pezzo della tua spesa glielo regali al banco alimentare Dopo loro lo prendono, fanno gli scatoloni Le danno le opere in carità Che a loro volta lo danno alla gente che hanno bisogno Quest'anno la colletta non si può fare come gli altri anni Che non si possono mandare i volontari Non si possono fare i sacchetti, fare i scatoloni Mandare in giro il camion, non si può fare Ma la colletta alimentare si fa uguale E come si ci fa? Fino all'8 dicembre puoi andare alla cassa del supermercato Oppure sul sito del banco alimentare E prendere una card Da 2, da 5 o da 10 euro Che poi dopo queste card vengono convertite In roba da mangiare che vengono distribuite Quelli che hanno bisogno Quest'anno dal 21 novembre all'8 dicembre Si può partecipare alla colletta alimentare Si fa con la card Quindi non è che con la card date dei soldi Ma regalate della roba da mangiare Rispettando tutte le norme di sicurezza Cioè cambia la forma ma la sostanza è sempre quella Solidarietà che continuerà anche il 22 novembre Con la Domenica del Dono Organizzata dalla Onlus Gulliver E dal neonato gruppo DSC della regione Marche Al centro del riuso di via Toscana 111 Si potrà dunque portare abbigliamento E oggetti che non si utilizzano più Ma che potranno aiutare tanto le famiglie bisognose Di Pesaro, Vallefoglia, Tavuglia, Gradara, Gabicce e Montelabate E in questo periodo vi abbiamo purtroppo dato notizia Di tanti eventi culturali e spettacoli Cancellati dalla pandemia Ce ne sono invece altri che vengono confermati Uno di questi è Masterfish La fortunata rassegna che esalta La realizzazione dei piatti di pesce Da parte della ristorazione locale E dei suoi abbinamenti coi vini di qualità Che viene realizzata proprio da Rossin TV E prodotta da confesercenti Pesaro e Urbino Dunque Masterfish non rinuncia alla seconda edizione Ma decide di posticiparla di qualche mese Come ci spiega proprio Hotel Lorenzi Uno dei motori organizzativi dell'evento A noi eravamo pronti Eravamo pronti perché i ristoranti erano già scelti Scelti veramente bene Bene nel senso che tutti erano entusiasti Di questa partecipazione Che cosa è successo poi lo sapete Comunque noi vorremmo riprendere marzo O comunque non appena finisce questo pandemonio Con questa valorizzazione Valorizzazione soprattutto del pesce nostro E valorizzazione anche dei prodotti della terra Perché a ogni ristorante Chiedo sempre in pratica di abbinare il pesce Ad esempio non so con i ceci Sappiamo i nostri prodotti tipici Come le sepie con i piselli Oppure il tartufo Eravamo in piena stagione di tartufo Pesce e tartufo Una riminiscenza rossiniana Non da poco E poi tutto quello che è la valorizzazione Quindi dell'entroterra insieme al mare È un progetto importante Credo di valorizzazione del territorio Non solo Si riesce anche ai ristoratori A dare una certa visibilità Ma una visibilità diversa Cioè una ricerca Una ricerca sugli abbinamenti Che non sono solo gli abbinamenti di vino Ma sono anche abbinamenti con i nostri prodotti I prodotti del nostro entroterra I prodotti che abbiamo Non ultimo Eravamo in pieno Produzione di olio extravergine d'oliva Abbiamo la DOP Cartoceto E tra l'altro la competizione È un modo di esaltare la qualità Non c'è competizione Non ho trovato competizione Anzi Naturalmente quando vado a proporre un ristorante E dico volete partecipare Dice ma chi c'è con me? Bisogna in questo caso L'abbiamo fatto Avere una linea Una linea di volontà Volontà di fare Cioè voglio dal ristoratore La voglia di fare questa cosa Cioè ci deve credere E il livello deve essere più o meno uguale Quindi non posso chiaramente Mettere un ristorante di alto livello Ma alto livello non significa Che uno ha la stella Mislaine Significa fare le cose fatte bene E sta cominciando il weekend di sport E cominciamo a parlarne Con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Che ha avuto esiti confortanti Dall'ultimo esame dei tamponi E ottiene dunque il via libera A tornare in campo domenica Alla Vitrifrigo Arena Nella sfida con Reggio Emilia Cambia però l'orario della partita La Lega Basket ha disposto Che non si giocherà alle 17.30 Bensì palla a due Alle 20.45 Appunto domenica Alla Vitrifrigo Arena Giocherà invece domenica Alle 17.30 La Vispesaro Allo stadio Benelli Ospitando il Carpi Che naviga nei quartieri alti Della classifica Ci si attende una reazione Dei pesaresi Reduci da tre sconfitte E che ora possono contare Anche sul centrocampista 23enne Manuel Di Paola Ex Virtus Verona Tesserato ieri Dopo alcuni giorni in prova E invece notizia Di poche ore fa Il fatto che l'Alma Juventus Fano Non tornerà in campo In questo weekend Rinviata A data da destinarsi La partita con l'Arezzo Dopo la richiesta Dei toscani Reduci da casi di Covid-19 Per il Fano Si tratta di un'altra domenica Braccia Concerte Dopo il rinvio Della gara Con il Legnago Ma il weekend di sport Inizia tra pochi minuti Quando l'Ital Service Pesaro Alle 20.30 Ospiterà al Palanino Pizzo La Petrarca Padova Un match Che potrete seguire In diretta Su Rossini TV In cui la squadra Di coach Colini Punta a accomodarsi In cima Alla classifica Dunque Non perdetevi L'appuntamento Con questa partita Che saremo proprio noi Di Rossini TV A trasmettere Subito dopo Il nostro telegiornale Alle 20.30 E oggi È cominciata Ciocomarche La rassegna Dedicata alle produzioni Di cioccolato Marchigiane Promossa Da Confartigianato Ancona Pesaro Urbino Che è giunta Ad una Diciannovesima Edizione Che in questo Periodo pandemico Si rimodella Tutta in versione Digitale Scopriamo come Nell'approfondimento Che ci ha realizzato Antonio Astuti È stata presentata Giovedì 19 novembre Alla sede Di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino Situata nella zona Industriale Di Ancona Baraccola L'edizione virtuale Di Ciocomarche 2020 Occasione nella quale È stata presentata Anche la grande campagna Compro locale Sempre della Confartigianato Quest'anno Ci siamo trovati Di fronte A un bivio Fare o non fare Ciocomarche Dopo ben 18 edizioni E abbiamo deciso Di innovare Dando una veste Nuova A questa manifestazione Quindi proponiamo Una diciannovesima edizione Con una veste rinnovata In chiave digitale Comunque per offrire Un supporto Concreto Alle imprese Dare loro Un'opportunità Di promozione Di vendita Attraverso Il nostro portale E-commerce Che stimola Gli acquisti locali E inoltre È anche un modo Per dare Un esempio Alle nostre imprese In un momento Così difficile La soluzione Non è fermarsi Ma è rilanciare I protagonisti saranno Sette cioccolatieri Del nostro territorio Che saranno i protagonisti Di una campagna Multimediatica In cui Trasmetteremo Utilizzando Tutti i nostri canali Di comunicazione Quindi Sia la carta stampata Sia i canali social Sia il nostro sito istituzionale E il portale Della via maestra Saranno appunto Protagonisti Attraverso foto Video Racconti Sul valore Dell'artigianalità Quindi una valorizzazione Del loro prodotto E della tradizione Legata anche al territorio Che ogni prodotto Contiene Contiene in sé Abbiamo ideato Questo marchio E stampiamo Abbiamo stampiato E diffondiamo In tutte le attività Che lo vorranno Questo marchio Perché finché Sarà permesso Noi cerchiamo E chiediamo Che le persone Si rechino Nelle nostre attività Nel rispetto Delle regole E crediamo Che le attività Devano rimanere aperte Nel rispetto Delle regole Che vanno sempre rispettate Però chiediamo Che si vada A popolare Le nostre attività Rispettando le regole Lo dico chiaramente Però crediamo Che un'economia Vada mantenuta Salda e viva Permettendo I nostri imprenditori Di lavorare È ovvio Che laddove Ci sono delle circostanze In cui gli imprenditori Non possono lavorare Molti imprenditori Si stanno organizzando Con dei loro City commerce Con delle loro Pagine facebook È normale Il micro Piccolo imprenditore Comunque Lavora sull'innovazione Sfatiamo questo mito Che l'imprenditore Non innova Ieri abbiamo presentato Con la camera di commercio Dei sondaggi Dei questionari In cui emerge Come le marche Sono una tra le regioni Più innovative Tra le imprese Sotto i 10 dipendenti D'Italia Quindi l'imprenditore A questo covid Ha reagito Con forte determinazione Ha superato È ovvio Che il covid Ha accelerato Tante dinamiche Da un punto di vista digitale Da un punto di vista economico Quindi gli imprenditori Si sono organizzati Quindi hanno le loro pagine Stanno cercando Di promuovere Per esempio La somministrazione E l'asporto Quindi noi non abbiamo Una visione Contro l'innovazione Sarebbe contro noi stessi Bisogna sempre innovare E tutti hanno sempre innovato Magari è più difficile Censirla Questa innovazione Quindi noi abbiamo creato Questo portale Lavia Maestra Grazie al contributo Diciamo Di nostri imprenditori Con la logica Di far conoscere Le imprese sul territorio E quindi Ciocco Marche Questa edizione digitale Dopo 19 anni Non vedrà ovviamente Una manifestazione fisica Ma la vedrà virtuale Quindi sarà uno strumento Lavia Maestra Punto com Per far conoscere I nostri imprenditori locali Ma non ci fermeremo Solo a Ciocco Marche Ma faremo tante iniziative Per valorizzare Questo patrimonio Che non va dirapidato Intanto per noi Un'occasione Che non volevamo perdere Anche quest'anno Per quanto riguarda La promozione Di quelli che sono Comunque prodotti locali Stiamo anche lanciando Appunto questa iniziativa Per cercare di sensibilizzare Tutti i consumatori Per l'acquisto Di prodotti locali I dati della nostra economia Naturalmente Sono particolarmente preoccupanti Ma non riguarda Solo una questione Delle Marche Perché le Marche Chiuderanno probabilmente Con un meno 17 Meno 18% Per quanto riguarda L'anno 2020 A livello di PIL È un dato comunque Allineato a quello Che saranno Diciamo Tutta la situazione italiana Ecco Noi abbiamo Dimostrato Che le nostre imprese Le piccole imprese Nonostante la pandemia Sono state Molto agili A ripartire Sono state Molto brave Nella ripartenza Perché i dati Di giugno Luglio E anche di agosto Sono stati Molto confortanti Per quanto riguarda La produzione Quindi c'è stato Un ottimo rimbalzo positivo Per quanto riguarda Le produzioni E le piccole imprese Questa volta Hanno dimostrato Di avere quella Forza Quella capacità Di cambiamento Che le hanno portate Ad essere Nuovamente Subito in corsa Per la produzione Quindi Questi sono i punti Su cui noi vogliamo Continuare a forzare Vogliamo anche Far conoscere Meglio Quelle che sono Le eccellenze Del nostro territorio Perché mai Come in questo momento Bisogna guardare Vicino Casa nostra Per vedere Quelli che sono I prodotti Che ci sono Da noi Perché Il rapporto Qualità prezzo È sicuramente Fondamentale Per quanto riguarda La piccola impresa E su questo punto Sicuramente La piccola impresa Ha veramente Molto da dare E con questo Approfondimento Su Ciocomar Che si chiude Questo nostro Telegiornale Prima di salutarci Vi ricordiamo Alcuni appuntamenti A cominciare Da quello che inizierà Davvero tra pochi minuti Qui su Rossini TV Alle 20.30 La diretta Della partita Dell'Ital Service Pesaro Contro la Bernardinello Petrarca Padova Una partita Dunque da non perdere Con la squadra Di Calcio 5 Pesarese Impegnata Nella lotta In alta classifica E dunque Alle 20.30 Appuntamento Qui su Rossini TV L'informazione Su Rossini TV Tornerà domattina Puntuale Alle 7.20 In diretta Da questi studi Con Buongiorno Rossini Condotta Da Marco Cadedu Si conclude qui Dunque questo Nostro telegiornale Da parte mia Un cordiale saluto Così come da tutta La redazione Un buon proseguimento Con i programmi Di Rossini TV Perfetto Grazie a tutti.